carissimi volevo fare il video di questa partita del commento di questo psicodramma domattina un po più a freddo ma poi ho pensato che è meglio parlarne subito levarmi questo dente cariato e non pensarci più e dormirci sopra perché il sentimento più che di più di rabbia di delusione di il sentimento è essere diciamo sbigottiti non comprendono comprendo qual è la chiave di lettura di una prestazione del genere prima della partita ha detto murigno a fine a fine gara lui è andato dai giocatori perché molto probabilmente lui aveva colto che c'era un po di deconcentrazione ha detto voi dovete immaginare che questo cremonese roma è l'ultima partita di campionato cioè la trentottesima e voi avete questa situazione davanti se vincete andiamo in champion league se pareggiamo andiamo in europa league se perdiamo andiamo in europa league ce la facciamo a vincere questa partita andando in champion league lui ha cercato di inculcare nella testa dei suoi giocatori il fatto che questa partita fosse importante perché lo era perché questa partita ci aveva portato al secondo posto dopo 24 gare di campionato a pari di squadre come inter e milan che nessuno pensava che potevamo essere in questa posizione a inizio campionato cioè al secondo possono 24 gare con milan e inter siamo riusciti a perdere con la cremonese il dato statistico della sconfitta per certi versi è clamoroso perché parliamo di una squadra che non vinceva una squadra in campionato in serie a ragazzi udite udite da 27 anni perché naturalmente è stata anche molto tempo in serie b cioè ma questi non si ricordavano più neanche come era fatta una vittoria in serie a tant'è vero che poi si sono buttati per terra a fine partita giocatori erano felici felicissimi hanno inseguito per 24 turni questo risultato con chi dovevano vincere la prima e l'avevo anche detto che vi ricordate nel video di presentazione cioè sto zero che più o poi si cancellerà speriamo che non succeda proprio oggi e naturalmente proprio questa è un'altra cosa che nella storia della roma come nella storia della roma che chi va a segnare un gol del genere sai duke io a fatica riesco a pronunciare che un giocatore così un uno che segnerà probabilmente questo gol poi non segnerà più fino a fine campionato perché è proprio nella storia della roma questa situazione qua però statisticamente perdere due volte in un mese da una squadra del genere con lo stesso risultato tra l'altro 2 a 1 un contro l'ultima in classifica prima in coppa italia ci hanno buttato fuori e poi un campionato cosa di inconcepibile è un altro però il tema che ricorre in queste due partite in entrambe le partite guarda caso non c'era chris molling questo qui per squalifica contro in coppa italia è stato lasciato fuori nel primo tempo c'è una scelta che poi si verrà sbagliata però io ho sempre detto attenzione c'è una roma con molling e una roma senza molling ma quasi mandati oltre questo questa semplice anche perché questa semplice interpretazione anche perché sapevamo prima della partita che probabilmente di bala si sarebbe riposato perché non era in perfette condizioni invece a inizio partite cioè quando hanno dato le formazioni ufficiali a sorpresa molling o schiera di bala titolare e che è stato un segnale molto importante quando ho letto la formazione ho detto cavolo mette di bala guarnaldo dal primo minuto andiamo a vincere sta partita e vuole la vuole vincere schiera la formazione che gli sembra migliore ma è quello che abbiamo pensato tutti e invece probabilmente murin ha schierato di bala dal primo minuto proprio perché aveva colto quello di cui parlavo prima aveva capito che c'era un po di deconcentrazione quindi ha voluto mandare un segnale affidandosi al suo giocatore tecnicamente più dotato quindi roma al campo con mancini scusate con patricio mancini con bulla centro della difesa non credo sia una coincidenza al fatto che entrambi gol della camonese comunque vengono da posizione centrale da pasticci in posizione centrale io non so se con small league avremmo visto il rigore che è stato dato alla fine ma non credo quindi poi bagna c'è cardo fra destra ha giocato molto ma è oddio che ha giocato talessi a giocare talessi e poi wijnaldum e papà e cristante guarnato ma ha giocato 90 minuti io l'avevo la vedo un po prima magari è passato da un minutaggio basso a 90 minuti vabbè poi a sinistra ha giocato spinazzola pellegrini di bala dietro a belotti tutti male un po tutti male faccio fatica a trovare un sufficiente male anche lui patricio una nazione di rigore doveva uscire con tutta un'altra decisione e con una postura diversa doveva mettersi per lungo diciamo in orizzontale e poi se lo scavalcavano con lo scaletto non potevi fare niente dovevi accettare il fatto di avere preso gol ma è uscito proprio sul giocatore con una postura secondo me che già è tanto che non gli ha segnato direttamente diciamo gol molto casuale ma molto pasticciato anche dalla nostra difesa in un momento chiave della partita perché la roma che ha giocato un primo tempo soporifero molto molto male tanti errori anche elementari tanta confusione ma più che confusione la mollezza avrete notato la mollezza di questo gruppo che ha affrontato questa partita con uno spirito completamente sbagliato sembrava neanche una partita di campionato nel primo tempo un amichevole un'esibizione una partita ma neanche di precampionato precampionato sono più combattute partita anche sporca ruvida Ballardini l'ha messa anche un po su questo piano qua ma fa sempre così un minestrato poi alla fine davide ballardini con le sue squadre quindi poi alla lunga i noti vengono al pettine la mancanza anche di gioco fino al pettine stasera gli ha detto bene sono stati secondo me anche un po fortunati perché sai tu poi alla fine gli arriva sta palla tira come viene e pia l'incrocio dei pali il rigore è stato un pasticcione però la Roma quelle poche occasioni che ha costruito non è stata incisiva perché io ho negli occhi per esempio due immagini nel primo tempo tu lo 0 a 0 un lancio per Pellegrini che spalla la porta deve stoppare di petto ha la porta alle sue spalle ma stoppa male la palla quindi non la blocca ma va indietro e il portiere gli prende la palla era un errore tecnico molto grave per la serie A quello lì perché lui con la palla ce la stoppava e poi nel girarsi molto probabilmente avrebbe preso anche un rigore lì secondo me nel girarsi per cercare di colpire il portiere sarebbe uscito dalla disperata forse avrebbe preso anche un rigore poi anche nel secondo tempo mi pare sull'1 a 1 dopo il gol del pareggio di Leonardo Smiazzola in posizione da centravanti fa proprio una cosa da centravanti con grande freddezza forse dobbiamo provare Spinazzola a centravanti per fare qualche gol non lo so un gol molto strano perché un lancione dei Mancini a scavalcare il centrocampo Spinazzola non si capisce perché è in quella posizione ma poi si disimpegna benissimo completamente solo anche dimenticato dalla difesa lombata stoppa bene prende la mia e piaccia la palla e probabilmente uno dei nostri attaccanti titolari sarebbe uscito nell'impresa di sbagliare anche quel gol lì e di tirare fuori poi però Di Bala ha una palla ratoterra che colpisce anche senza giusta forza molto centrale col finistro e tira praticamente in bocca a carne secca e quello non è quello che poteva essere il momento della svolta di questa partita e quello non è il vero Di Bala insomma anche l'abbiamo visto anche in quella punizione dal limite alla fine del primo tempo che una tirata alta è una punizione che per lui era ideale anche là abbiamo visto che non era in perfette condizioni ma si sapeva tant'è vero che come avevo detto si pensava che non sarebbe partito dal primo minuto quindi una serata assortissima però cioè è proprio tutto l'approccio della partita che è sbagliato cioè al di là degli episodi che sono stati contrari l'abitraggio pessimo con Piccinini che ha sbagliato praticamente tutto l'espulsione di Murigno molto criticata adesso sui social ma io credo che sia stato anche un modo suo perché non è una volta di caricare un ambiente che era troppo moscio di cercare di alzare di metterla un po' sulla guerriglia ma neanche sulla guerriglia diciamo su un piano di tensione di alzare la tensione di questi suoi giocatori che dormivano in campo tra l'altro molto arrabbiato a fine partita a Murigno che minaccia addirittura azioni legali nei confronti di Serra che poi Serra è un arbitro che era il quattro uomo stasera ha un atteggiamento una cosa incredibile perché lui proprio ha questa faccia che sembra che te sta prendendo in giro quando ti guarda se vedrete poi le immagini sembra che abbia detto cose pesanti nei confronti di Murigno poi ne cercheremo di capire meglio ma non ci dobbiamo perdere però in queste polemiche perché questa cosa avviene a inizio secondo tempo il primo tempo della Roma è regalato la Roma non è scelta in campo nel primo tempo poi la scelta dei quattro cambi tutti insieme che a me non è una scelta che già ho detto più volte non mi piace non mi convince perché c'è uno stravolgimento che può alterare anche il negativo gli equilibri di una squadra ma dopo pochi minuti anche la quinta sostituzione e quindi la quinta sostituzione subito poi la squadra a 20 minuti dalla fine passa già ha finito i cambi potrebbe essere stato un errore anche questo cioè si è rischiato il tutto per tutto insomma sull'1-1 pensavamo tutti che ce l'avemmo dovuta fare pensavamo comunque di pareggiare questa partita solo che ci sono delle squadre come la Juventus che oggi sono andate due volte sotto nel debito il Torino e adesso io ho visto l'aggiornamento la partita ancora in corso e stanno 3-2 e portano anche a termine le rimonte mentre squadre come noi come la nostra che sembra che l'impresa riprenda una partita con l'ultima in classifica quindi stasera avrò l'umore il mio umore è nerissimo faccio fatica anche a capire perché non non sono cioè questi ragazzi a volte non sono dei professionisti non riescono a capire che tutte le partite sono importanti non c'è rispetto non c'è rispetto per chi paga il biglietto per chi va in trasferta per chi paga gli abbonamenti per chi si scommette i soldi sui risultati perché quanti di noi oggi se sono giocati qualcosa sulla vittoria della Roma a Cremona che la potrà anche bene cioè questi ti rendono conto di che cosa della responsabilità che hanno per non parlare naturalmente del discorso anche del tradimento della delusione che tu provochi a tutti i ragazzini che si mettono avanti alla televisione con i genitori col padre col nonno a vedere la partita della Roma e vedono queste prestazioni perché io ripeto poi si può anche perdere nel calcio non è che anche non lo sappiamo molto bene che si può perdere ma è la prestazione che è inaccettabile e stasera diventa pure difficile guardare avanti adesso a cosa succederà perché ora c'è un Roma-Juventus che è diventata una partita complicatissima loro hanno fatto ricorso per avere 15 punti l'hanno depositato proprio stasera se ho sentito bene stanno andando a mille mentre Pallo stanno vincendo anche il Debb e stanno ancora a risultato finale stanno recuperando i giocatori in panchina oggi c'era anche Pogba che naturalmente è chiaro che rientrerà prima con la Roma è logico perché fa parte anche quello della sfiga che abbiamo e poi c'è credo che ci sia anche un Roma-Sassuolo che non è neanche una partita facilissima e poi c'è ci sarà il derby poi ci sono le partite di Europa League con la società abbiamo un marzo veramente complicato tanto sembrava sulla carta un mese alla portata a febbraio quanto sembrava sulla carta molto complicato marzo ma il mese di febbraio invece ci ha riservato delle bruttissime sorprese in negativo da cominciare cominciato il mese con l'eliminazione in Coppa Italia e finisce con una sconfitta complicata anche da dimenticare cioè una sconfitta di questa che si parlerà per anni la Cremonese però ha battuto la Roma come avere fatto a pede con la Cremonese già li sento perché poi la Cremonese probabilmente retrocede pure quest'anno diciamo la verità insomma non mi venite a dire che sia una squadra insomma cioè una squadra dei mestieranti che cosa potevano fare hanno come sempre avviene con tutte le squadre che giocano la Roma profuso ogni goccia di sudore si sono impegnati sempre perché sembra che quando si gioca la Roma c'è un trofeo in palio non è mai una partita normale per le altre squadre abbiamo visto anche contro Lecce contro giocano tutti al limite non si capisce il motivo e anche oggi è stato così gli ha detto un po' bene noi purtroppo serata stortissima non eravamo assolutamente in serata di bala così così tutti in condizioni mentali di approccio alla partita scadenti siamo qui a contare l'ennesima sconfitta perché una delle caratteristiche negative della Roma di Murigno sia dell'anno scorso che di quest'anno che ha totalizzato veramente troppe sconfitte e questo è il dato che a me veramente mi lascia perpresso io ho la consapevolezza che questa è una squadra che quando non ha diciamo quando non ha Smalling di bala il vero di bala quello di stasera è un parente lontano di di bala questi questi giocatori oltre a dipendere fisiologicamente in modo clamoroso da per esempio lui Patricio perché non c'è un secondo portiere quindi lo criticheranno ma ringraziamo Dio che ci sta perché se no sarebbe ancora peggio senza questi portieri senza questi giocatori la Roma va in difficoltà è una grossa spada di damole che noi abbiamo perché noi se ci troveremo a giocare non so una semifinale d'Europa League non so Manchester United oppure Arsenal Roma senza Smalling ragazzi è durissimo o senza di bala poi il problema è la testa la testa questo è un gruppo che non affronta tutte le partite con la stessa concentrazione è un problema gravissimo e cioè loro oggi dovrebbero pagare una multa questo è il discorso loro per come hanno giocato ma più che altro per come sono scelto in campo come hanno approcciato questa partita la società dovrebbe fare una trattenuta sullo stipendio io veramente secondo me bisognerebbe lavorarci a un progetto del genere perché questi gli devi dare uno stimolo per giocare la partita in una maniera normale io non dico col sanguagliore ma è normale loro oggi non hanno giocato la partita sono andati a fare un allenamento poi quando si è messa male anche perché sono entrate forze fresche allora hanno cercato di sistemare la pratica e di ribaltare la situazione per salvare anche la faccia ma purtroppo gli ha detto male oggettivamente ci ha detto male perché la cremonese non è che abbia avuto tutte queste palle goal loro meriterebbero di una trattenuta di 100.000 euro a giocatore questo mese per questa partita forse io credo di non dire una cosa cioè devono pagare una penale perché cioè non li devi toccare in portafogli perché sennò poi la gente fa due giorni si dimentica e pensa a Roma a Juventus perché tanto a Roma a Juventus ci sarà un altro tutto esaurito saremo tutti lì sarete tutti lì a cantare l'inno della Roma e tutte queste storie questa è la storia magari facciamo anche una bella partita magari la vinciamo pure tutti i seri invece no no perché io non me la dimentico non me dimentico né Roma cremonese né cremonese Roma e io questo gruppo purtroppo l'ho perso tra virgolette nell'ultimo derby ve l'ho detto io quella partita non ve la posso perdonare perché non si può perdere con la Lazio in quelle condizioni lì e queste prestazioni sono una conferma io non lo so se qualcuno di voi si è accorto ma io mi sono molto raffreddato nei confronti di questo gruppo cioè io sto continuando a sostenere la squadra però questo gruppo che abbiamo visto tante volte che scricola l'abbiamo visto con Cardo l'abbiamo visto con l'affare Zaniolo e lo vediamo in queste prestazioni senza senso senza senso perché tu a Napoli puoi perdere ma hai fatto un'ottima prestazione e nessuno ti dice niente anche lì si dice male negli episodi che sembra sempre che tirano questi se girano tirano in croce dei pali o tre volte ma nessuno ti dice niente ma qua quando non giochi quando la squadra non va in campo poi uno si disamora di questi giocatori qua è questo il discorso perché manca manca la serietà questo è un gruppo che non è serio mi dispiace dirlo perché come tifoso mi duole dirlo però fra noi tifosi della Roma ci dobbiamo dire come stanno parlando con altri tifosi siamo più morbidi ma questo è un gruppo che ha perso tantissime partite ormai non le conto neanche più un campionato quanti sono ha perso in Europa League ha perso in Coppa Italia ha perso tante partite anche l'anno scorso anche in Conferenzia che mi pare tre partite ha perso è una costante ormai non è più una volta io dicevo ma noi mettiamo tutti un alto e basso vinciamo una partita e poi ne perdiamo una magari più fa ma adesso qui non è un alto e basso ormai è una costante cioè questa è una squadra che non ha una sua continuità per cui non c'è tanto da esaltarsi quando le cose vanno bene perché arriva subito si sa che poi arriva la partita che questi si allenano male vanno in campo per non farsi male cominciano a gestire abbiamo questa gestione anche del tempo cioè noi il primo tempo lo vogliamo far scorrere senza impegnarci troppo e poi nel secondo tempo accelerare pigiare i piedi sull'acceleratore perché in questo modo rispammiamo energie in questa maniera ma non si può ragionare così ma le partite vanno a giocare 95 minuti come fanno tutte le squadre il Napoli gioca 95 minuti sempre con chiunque a Empoli a Francoforte con chiunque questo questo deve arrivare a fare una squadra si deve militare fino all'ultimo centesimo non solo lo stipendio ma anche l'affetto il sostegno continuo di una tifoteria meravigliosa io ieri proprio stavo guardando su stavo casualmente su facebook mi pare c'era un tifoto della Juventus aveva fatto aveva messo un video dei tifo dei cori dei tifoti della Roma che diceva se anche la Juventus se avesse un tifo del genere uno stadio del genere con questo tifo capito? capite? fa riflettere questa cosa però il problema è che noi abbiamo il tifo ma abbiamo la squadra adeguata al tifo e questo è un tema che deve uscire fuori nella valutazione di questa stagione questo meraviglioso stadio sempre tutto esaurito un trasferto al sostegno sempre eccetera non ha una squadra adeguata a rappresentarlo ed è un problema che la proprietà si deve porre a un certo punto e deve intervenire e deve capire per quale motivo questo avviene io come vedo io le cose l'unica è toccarli nel portafogli perché loro non sono dei professionisti questo non è un gruppo professionale questo è un gruppo che vivacchia sulla qualità dei giocati di alcuni singoli ottimi giocatori che tutti conosciamo e tutti ci riconoscono e cerca di risparmiare sempre energie in ogni partita sia nei 90 minuti che nella gestione degli impegni settimanali mensili in questo mese questa partita qua era considerata la partita a parte quella di Coppa Italia che c'era qualcosa in pario quella lasciamola fuori al primo febbraio se non sbaglio però dopo questo gruppo di partite che portano a quelle impegnative a partire da Roma e questa era considerata la partita più semplice quella che bisognava risparmiare energie il più possibile eccetera eccetera e l'hanno interpretata in questo modo qua dove hanno sbagliato hanno sbagliato in quello che diceva Ballardini stamattina che io li portavo nel video che ha citato sulla gazzetta dello sport Ballardini ha detto la Roma ha delle grandi motivazioni perché vuole andare in Champions ma anche noi abbiamo enormi motivazioni cioè credo tenevano salvare stanno cercando disperatamente la salvezza e noi abbiamo sottovalutato il discorso che la Cremonese avrebbe fatto una partita di grande voglia di grande concentrazione l'abbiamo dati per morti quando questi te l'hanno anche detto che non hanno nessuna intenzione di mollare come non hanno nessuna intenzione di mollare la Sampdoria che l'abbiamo vista all'opera ieri all'Olimpico contro la Lazio battuta solo nel finale per cui la morale è che tutte le partite vanno ad affrontare sempre con la stessa attenzione la stessa mentalità e quindi io dico seriamente non è una battuta la proprietà deve capito stabilire per contratto una penale di fronte non alle sconfitte che ci sono sempre che saranno sempre di fronte alle prestazioni cioè è come se tu praticamente prendi una colf che deve venire in ufficio in casa a pulire tutto l'ufficio per un po' di tempo ogni mese ti do questi soldi e questa pulisce a un certo punto viene a fare una spolverata fa finta di lavare il pavimento poi viene a mirare lo stipendio la stessa cosa io ti dico ma io tu non la fai finta di lavora che vuoi da me e questo è il ragionamento che faccio io e questo è il discorso che dovrebbero fare i fricchin i giocatori oggi non cioè oggi hanno rubato lo stipendio hanno rubato la quota dello stipendio relativo a questa partita perché non hanno giocato a pallone e poi nel secondo tempo c'era qualcuno che diceva Ferretti Mimmo Ferretti del messaggero alla radio adesso è facile dire che dopo che sono entrati i quattro cambi forse Mourinho aveva sbagliato formazione perché chi è entrato poi è sembrato più in palla ma non è un ragionamento le partite durano 95 minuti chi va in campo deve dare il fritto per 95 minuti poi si va a vedere il risultato finale della partita che può essere anche di sconfitta perché ci sta pure che purtroppo uno come sai tu che probabilmente sognerà quel gol sanotte cascherà dal letto tira così come viene viene e prende in coscia dei pali ci sta nel calcio ma la prestazione è quello che noi tifosi noi quanti quanti giocatori che tecnicamente non erano molto dotati abbiamo amato perché uscivano però sempre con la maglia sudata quanti nomi potremmo fare vi ricordate non so Tarzan Annoni per fare un nome no? oppure che vi posso dire Piacentini Tommasi questi giocatori che non avevano i piedi ma davano sempre tutto uscivano con tre magliette sudate dovevano cambiare la maglietta durante la partita per quanto era bagnata noi quello vogliamo vedere oggi non si è visto assolutamente niente dello spirito tra virgolette testaccino che dovrebbe sempre animare un gruppo che chiaramente testaccio non sa neanche che cos'è e quindi questi vanno in campo a far lavoro loro oggi ci sono domani vanno così a far sta partita con lo spirito che non è il nostro di tifosi noi non ci riconosciamo in questo gruppo io ripeto ancora mi spiace dirlo ma io mi sono entrato in frizione con questo gruppo dopo il derby e se ve lo ricordare basta andare a vedere il video ho detto io questa sconfitta non ve la perdono non c'è niente da fare lì si è rotto qualcosa e purtroppo devo dire che questi risultati sono la conferma che la mia impressione purtroppo temo che fosse abbastanza giusta ragazzi andiamo avanti dopo sta macciata non sarà semplice ripartire anche perché adesso naturalmente Roma-Juventus che poteva essere una partita dove vincendo a Cremona tutto sommato si poteva anche pareggiare magari un 2-2 una partita una bella partita la Juventus si infonda una squadra ancora forte eccetera ci si poteva anche passare sopra poi magari si vinceva il derby invece adesso è diventata una partita che vince a tutti i costi per non perdere troppi punti dalle alte per rimanere non rimanere indietro eccetera quindi noi abbiamo un'incredibile capacità di complicarci sempre la vita da soli basta vedere anche i nomi delle avversarie delle squadre che ci hanno battuto quest'anno sia in Coppa Italia che in Europa League che in campionato per avere la conferma di quello che sto dicendo buonanotte a tutti ragazzi domani è un altro giorno